Allora Raffaele, a distanza di diverse settimane ci ritroviamo a fare un po' il bilancio di quella che è la situazione vaccini nella città di Agropoli. Conosciamo insomma un po' le dinamiche e sappiamo che avete iniziato anche la terza dose. Allora ci puoi aggiornare come procede? Allora la vaccinazione procede abbastanza bene anche se ovviamente c'è un calo fisiologico delle prime somministrazioni considerato il fatto che comunque come Cilento in generale siamo notando 85% della platea dei vaccinabili a cui è stata effettuata l'inoculazione del farmaco. Però parallelamente stiamo procedendo molto molto bene con le somministrazioni delle terze dosi con il personale sanitario che sta rispondendo in maniera robusta e massiccia sia presso i nostri hub che quelli dell'ospedale e anche gli over 80 hanno iniziato a recarsi spontaneamente per ricevere quella dose booster o la dose addizionale. Parallelamente abbiamo aperto anche per gli over 60 e tutti i pazienti fragili i quali possono recarsi senza alcuna prenotazione in uno o qualsiasi dei punti del distretto anche perché al momento per la terza dose la prenotazione ancora non è possibile farla. Possiamo fare anche una precisazione per quanto riguarda il vaccino Johnson & Johnson. C'erano ancora dei dubbi ecco alcune settimane fa per quanto riguarda il richiamo quindi la seconda dose in questo caso. Ecco puoi darci delle notizie? Sì certamente per quanto riguarda i vaccinati con Johnson & Johnson a prescindere dall'età quindi dei 18 anni in su non per forza fragile o over 60 precisandolo ulteriormente possono recarsi liberamente presso uno dei nostri centri vaccinali per ricevere la dose booster passati sei mesi dall'unica somministrazione. Preciso che la seconda dose sarà effettuata con un vaccino mRNA quindi o con Pfizer o con Moderna. Possiamo fare anche una precisazione per quanto riguarda il vaccino anti-influenzale e il vaccino anti-covid-19. Sono due soluzioni che possono essere iniettate insieme ma se eventualmente si decidesse di fare la terza dose di vaccino a distanza di qualche giorno ecco che cosa succede? È consigliabile oppure no? Allora la dose anti-covid-19, la dose di vaccino anti-influenzale o vanno somministrati assieme nello stesso momento oppure tre e due non importa quale sia stato somministrato per primo devono intercorrere comunque 15 giorni di distanza. Ok, detto questo Raffaele possiamo invitare quindi le persone a raggiungere il centro vaccinale città di Agropoli quando e a che ora? Allora il centro vaccinale città di Agropoli sarà aperto in open day quindi accesso libero senza prenotazioni che sia una prima, una seconda, una terza dose venerdì 5 novembre quindi oggi, domenica 7 dalle 9 alle 13 e poi fino a fine novembre tutti martedì e venerdì dalle 15 alle 19 di domenica. Grazie.